Ora pesco! Ho finalmente peccato la carta giusta Kaiba, è finita per te! Mi dispiace Yogi, ma ho vinto! Grazie alle regole, tu sei squalificato! Aspetta, cosa? P-perché? Yogi, pensi che non abbia capito che quel cendolo di fava era un culo sfondato, mi sono veramente rotto al cazzo! Oh, cazzo, sei bandito da qualsiasi seroneo d'ora in poi! Porco di... Signore, lei viverà fino al 2050? Che bello, sono ancora 27 anni! Guardi che c'è scritto, fino alle 20.50. Aspetta che guardo l'orologio, segna alle 20.49. Oh. Oddio Ben, sono un tuo grande fan! Sì, sono io, che vuoi? Voglio farti vedere un disegno che ho fatto! Sì, fammi vedere. Oh Cristo, ma che hai nel cervello? Perfetto, pure questa lega è finita! Bravo Ash, sei stato fenomenale! Ah, grazie lo s... Ash, vieni qui! Chi sono quelle? Nessuno di importante, io ora devo andare! Ciao, torno presto! Ci hai sfuggito di nuovo! Ma che siete? Quello stronzo ci ha messo incinto e poi se n'è scappato! Oh, ma pure io sono... Oh, ma brutto bastardo! Oh, quel donato mi ha toccato il suo canale! Cazzito, papirino! Oh, oh! Oh, la tua parola ambulante mi dà fastidio! Vuoi che ti tagliare in che cazzo? Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh!